C'è un problema! Roba da matti Summer Tour 2013 Lo spettacolo televisivo campione di ascolti in tour nelle più importanti piazze d'Abruzzo, Molise, Marche e Lazio con Vincenzo Olivieri e la MoMA Band 3 ore di musica, cabaret, coinvolgimento del pubblico e scherzi telefonici in piazza Se vuoi nella tua città a Roba da matti Chiama subito Fancy World al 328 71 92 271 Roba da matti Summer Tour 2013 L'evento comico più atteso dell'estate Roba da matti Summer Tour 2013 Lo spettacolo televisivo campione di ascolti in tour nelle più importanti piazze d'Abruzzo, Molise, Marche e Lazio con Vincenzo Olivieri e la MoMA Band 3 ore di musica, cabaret, coinvolgimento del pubblico e scherzi telefonici in piazza Se vuoi nella tua città a Roba da matti Chiama subito Fancy World al 328 71 92 271 Roba da matti Summer Tour 2013 L'evento comico più atteso dell'estate C'è un problema Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa Qualcosa che non va Guarda lì, guarda là Che confusione Guarda lì, guarda là Che male tu gatti Guarda lì, guarda là Che male tu gatti